Il fatto che l'anno scorso c'era questa moda del turismo di vicinato, di prossimità, quest'anno c'è invece un po' di crisi economica che ha ridotto anche le persone che fanno la vacanza. Quest'anno abbiamo avuto, teniamo conto, ben tre weekend pieni in aprile utilizzati da moltissima gente perché erano tre ottimi weekend primaverili. Quindi tutto questo giustifica in qualche modo la riduzione che abbiamo avuto, soprattutto di presenze italiane.